Nel programma vedete prima dei nomi di Laura Bartolomero Viras e di Carles Sanchez, quello di Manuel Castignairas della Università Autonoma di Barcelona, che non può essere presente, va detto fin dall'inizio che non sarebbe stato possibile, però Laura e Carles presenteranno un lavoro che è stato promosso, credo è organizzato da lui con la loro collaborazione, e diciamo che con questo intervento il tema del nostro convegno si sposta dal terreno della fortuna dell'antico a quello della documentazione della tradizione artistica, in questo caso della tradizione artistica catalana e medievale, un progetto che è per noi, in particolare per il nostro laboratorio e per il mio gruppo di lavoro, di particolare interesse, perché è in qualche modo un progetto cugino di quello che vi presenterò domani, che è una fase più arretrata, ma insomma sarà un dialogo spero molto utile, e quindi do direttamente la parola a loro, e vi ringrazio molto di essere presenti, e ringrazio anche Manuel di aver aderito al nostro invito. Grazie, e innanzitutto vogliamo ringraziare alla direzione scientifica di questo convegno internazionale, in particolare alla professoressa Maria Monica Donato, l'opportunità di presentare il lavoro in corso del progetto di ricerca Magistri Cataloniai dell'Università Autonoma di Barcellona. Questo progetto è diretto dal professor Manuel Castigneiras, ed integrato da ricercatori della stessa università, ma anche di altre università catalane, europee, e importanti istituzioni museistici e del patrimonio, come il Museo Nazionale della Catalogna, il Museo Episcopal de Vic e il Centro di Restauro dei Beni Immobili della Catalogna. Uno degli obiettivi del nostro progetto è la ricostruzione della ricca rete dei processi artistici, attraverso i suoi tre agenti principali, cioè artisti, comitenti e pubblico, in un ambito concreto, Catalonia, ma intesa come un territorio di scambi e di influenze nel contesto mediterraneo. Si tratta dunque di un progetto che espone una solida riflessione metodologica tra la semiottica e l'istoria sociale dell'arte sull'identità, formazione, condizione e riconoscimento sociale dell'artista e del medievo. La prima fase del progetto è dedicata allo studio degli artisti ed in una seconda fase sarà analizzata la tipologia ed evoluzione dei comitenti in Catalogna. Nella prima fase di questo intervento cercherò di dar ragione del marco teorico del nostro progetto e in seguito Laura presenterà una parte importante che è l'Index Magistri Catalogna. Bisogna però rilevare che si tratta di un progetto aperto e ambizioso e non racchiuso nei confini attuali della Catalogna. Con esso vogliamo restituire per l'artista e i comitenti della Catalogna medievali gli spazi di scambio artistico del vaccino mediterraneo tra l'XI e XV secolo sia nel suo contesto occidentale cioè la Catalogna Nord, il Languedoc, Provenza, Lombardia, Toscana e la Roma Papale e il Regno di Napoli sia nel suo contesto orientale con l'espansione catalano-aragonese dalla Sicilia a Grecia, Anatolia così come i rapporti commerciali con Cipro, Damasco, Alessandria o cultuali con il Sinai. Siamo consapevoli che ci hanno preceduti importanti studi sulla sociologia dell'artista nel caso della Catalogna dobbiamo considerare i lavori precedenti di Frédéric Pauberriè sulla vita dell'artista medievale e di Joaquin Garza che analizzò il concetto di artista e artigiano nel gotico catalano. Inoltre, da un punto di vista epistemologico lavori già classici come quello di Moralejo artistas, patronos e pubblico nell'arte del Cammino di Santiago ma soprattutto le direttrici tracciate per la storiografia italiana cioè le ricerche di Castelnuovo sullo status degli artisti medievali e le grandi raccolte di testimonianze approntate da Maria Monica Donato e il suo progetto Opere firmate hanno contribuito a conformare il nostro orizzonte di aspettative. Certamente un problema di sfondo sarà quello della firma e l'anonimato dell'artista medievale benché non sia sempre nota tutta l'informazione correlate alle opere che sono arrivate fino all'attualità conserviamo un numero importante di firme o iscrizioni attributive che senza dubbio costituiscono un materiale valuoso per la costruzione di una storia sociale dell'arte. In questo senso possiamo trovare diversi esempi di firme che indicano che il riconoscimento sociale dell'artista magari doveva essere abbastanza alto come per vincolare il suo nome a un'opera concreta esposta alla comunità. Basti ancora il caso di Willy Germo, Lanfranco o Antelami per l'Italia il caso di Bernardo Guilduinus o Gislebertus per la Francia o il maestro Matteo per la Spagna. Nel caso di Catalogna se uniamo a quelli incontrati in documenti i nomi conosciuti attraverso la sottoscrizione delle opere ci troveremo di fronte a un repertorio abbastanza vasto. Comunque questo censo è discreto se lo paragoniamo con l'Italia almeno nel periodo romanico. Per poter analizzare il ruolo dell'artista e l'amministrazione delle botteghe abbiamo puntato per individuare cinque casi e studio. Primo, l'operario suo architetto amministratore dell'opera secondo, l'artista che deviene capomasto di una bottega terzo, il rapporto tra comitente e bottega quarto, quello dell'artista ignoto che lavora nel seno dell'istituzione ecclesiastica e che, per noi, potrebbe essere identificato con il profilo dell'artista clericus e finalmente l'artista vincolato alle corporazioni e il mondo cortigiano. Per quello che riguarda il primo caso sappiamo che il termine operarius poteva usarsi per designare l'amministratore dell'opera una funzione esercitata sia ad un monaco nei monasteri sia ad un canonico nelle collegiate e cattedrali o addirittura ad un laico professionista. Questo ultimo è il profilo dell'architetto Ramon Lambar, Raimundus Lambardus contrattato l'anno 1175 per la conclusione della cattedrale dell'Asio d'Urgeglie dove si constata la sua doppia funzione come capomastro e come operario della cattedrale responsabile di gestire finanziariamente la costruzione. Il contratto ci permette di assicurare che in questo caso l'appellativo Lambar si usa come sinonimo di costruttore non essendo così un'allusione all'origine forestiera del personaggio. E' conclusivo o sembra conclusivo un documento originale del 1179 che possiamo vedere qui in cui Ramon appare come testimonio e firma Raimundi di Nargò Lambar essendo Nargò un piccolo paese vicino alla Seu d'Urgeglie. Infatti sembra che Ramon era stato promosso ad avere questo incarico grazie ai suoi contatti con la comunità dei canonici dove appunto vi era un suo familiare Pera di Nargò. Da canto suo nella prima pietra della cattedrale di Ieida dell'anno 1203 si commemora il canonico Berengarios do Bizionis operario esistente e Petrus del Cumba capomastro. In questo caso non c'è dubbio che l'amministrazione è svolta da un ecclesiastico. Nel 1222 Berengarios do Bizionis amministratore o procuratore dell'opera è appunto documentato come priore fatto che dimostra che il carico era importante dentro del corso sonoro un dei membri dei capitoli o comunità monastiche. D'altra parte l'emergente posizione dell'artista nel seno della sua bottegga è confermata dai ritratti come quello di Arnau Cadelli posto nel capitello della Galleria Orientale del monastero di San Cugat dove raffigurassi intagliando un capitello corintio. Vicino al capitello nel pilastro vediamo qui si conserva una lastra nella quale Cadelli proclama la paternità dell'opera che stanno Arnali e scultori sforma Cadelli che claustro un tale costruzzi il perpetuale e questa è la figura dello scultore Arnau Cadelli che tale chiostro costruì a perpetuità. Scopriamo che quando lo qualifica di perpetuale Cadelli lo scultore capomastro vuole essere ricordato a San Cugat come l'autore che rese possibile la solidità costruttiva del chiostro è l'assente di una forma eminentemente intellettuale vincolata all'idea della fama e dell'affirmazione individuale oltre a una mera marca di fabbrica costituisce una prova della soddisfazione dell'artista per l'opera eseguita il suo è veramente un caso molto particolare poiché è revelatore dell'esistenza di una consapevolezza artistica ma anche per la volontà di Cadelli di volersi perpetuare come artifice e scultore alla fine del XII secolo sicuramente lo scultore vuole assumere un ruolo simile a quello dell'architetto comandando sulla sua botteca infatti negli stessi anni viene illustrata la relazione di innovazione ecclesiare santi-geminiani dove possiamo vedere la distinzione tra l'architetto l'anfranco che sostiene nella mano il bastone di comando e gli operaio e in altri casi come quello di Fedantius architetto della chiesa di San Cugat è possibile ricostruire il curriculum vitae di questi artisti se nel 1700 si intitolava Artifex Petre tre anni più tardi lo fa come Fedantius architetus ed magister domorum comunque la presenza di questo numero ridotto di firma in Catalonia non deve essere un ostacolo per ricostruire la struttura e organizzazione del lavoro nelle botteghe e per realizzare una profonda riflessione su questioni terminologiche come l'uso dei termini fecit e conditor operis o dei termini scolari autor o magister per designare l'autore dell'opera Arnau Catei è anche responsabile della fattura del chiostro della catedrale di Cirona dove troviamo un bel esempio della rappresentazione della bottega in azione ci si vedono operai trasportando acqua e scalpelini intagliando pietra vicino a un pilastro dove viene rappresentata la costruzione dell'arca di Noè questo parallelismo tra passato biblico è presente e molto aletante per comprendere il simbolismo dell'immagine è importante sottolineare che davanti a questi operai viene raffigurato il comitente Ramon Ghissà il bescovo di Girona seguendo l'aboluzione del lavoro a mio abisso a Girona ci si riprende il simbolismo delle imprese bibliche paragonando il bescovo ai monarchi del vecchio testamento infatti in un foglio della Bibbia di Rodas custodiata allora in un monastero molto vicino a Girona viene narrata la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme da Zerobadel a Giosuè su richiesta del profeta Ageo il panorama è veramente abbastanza desolante nel campo della pittura romanica catalana già che da solo conserviamo tre firme autografa in una lunga tradizione di pittura su tapola è il caso dell'istrutto paliotto d'altare di San Genis des Fontaines di finale del XII secolo che era stato firmato da Magister Alexander possiamo vedere qui o del paliotto di San Martì de Gia dove possiamo leggere nel registro inferiore Johannes Pintor Mephezit col desiderio di poter apportare nuovi dati sull'origine formazione e traiettoria del pittore romanico attualmente si stanno analizzando una serie di pali di altare e pitture murali nel marco del progetto Magiste Cataloniae grazie alla collaborazione interdisciplinare di storici dell'arte e restauratorio i risultati ci aiuteranno a proporre un peculiare curriculum vitae per il pittore romanico che passerebbe per una formazione in diversi arti miniatura pittura su tavola e murale probabilmente nelle grandi istituzioni ecclesiastiche come monasteri ripol e cattedrali seudurgei e bic in questo contesto questioni come l'anonimato i numerosi testi che accompagnano queste operi titoli o la propria condizione sacra degli ornamenti liturgici ci permette di esporre il profilo del pittore ecclesiastico diverse notizie che vediamo qui sembra che confirmano questo profilo del pittore doctus che aveva acceso i trattati tecnici dell'epoca cioè eraclio e teofilo ricette della vazia di ripol e i codici miniati delle biblioteche ecclesiastiche comunque è importante conoscere il sistema di lavoro le tecniche utilizzate e i materiali ai quali si ricorre la sociologia dell'artista varia nei secoli del gotico nei quali appare l'immagine dell'artista vincolato alle corporazioni e al mondo cortigiano allora le notizie su artisti documentati sono più abundanti basti ancora il caso di John Mauggett il cui nome appare nel contratto per la realizzazione di alcune opere come la pala dei Santi Abdoi Sanè di Terrassa che possiamo vedere la documentazione d'archibio ci fa conoscere molti nomi mentre altri ci sono rivelati le firme e iscrizioni è il caso del pittore Jaume Ferré che firma la pala della Bifania come Jacopus Ferrari d'altra parte lo stabilimento di notariati ci proporziona una documentazione abbondante che colpisce l'attività professionale degli artisti sul posto di provinenza se l'attività professionale obbliga a residenza fissa o a biacciare in cui condizioni si stabilisce nella città nonostante ancora rimangono molte cose da esaminare sull'organizzazione del lavoro e il sistema di apprendistato passo la parola a Laura che presenterà una parte del nostro progetto che è l'index Magiste Catalonia stamani siamo accompagnati dalla soddisfazione di Massimo D'Alema questo ci riempie di gioia sì ecco questo D'Alema anche a me dopo questa prima parte che ci ha permesso di tracciare il marco teorico nel quale nasce questo progetto di ricerca vorrei soffermarmi con il vostro permesso sulla creazione dell'index Magistri Catalonia questo è un indice online ad accesso libero e trova sì nel web del nostro progetto www.magistricatalonia.org disponibile in tre lingue diverse catalano spagnolo ed inglese fin dall'inizio è la pubblicazione online dei contenuti il modo che abbiamo scelto per rendere la diffusione della nostra ricerca abbiamo voluto dunque che la decisione quasi simultanea dei risultati attraverso il web sia uno dei maggiori punti di forza del progetto perciò la creazione del web è stata parallela alla creazione dell'indice e tesi sono stati progettati nella consapevolezza di questo scopo la struttura di questi strumenti digitali è stata disegnata per il ricercatore principale di questo progetto il professore Emanuele Castigneiras e per i due coordinatori generali il mio collega Carles Sanchez e me dopo aver ottenuto una struttura chiara abbiamo preso contatto con un'agenzia di comunicazione di Barcellona devo dire che la stretta collaborazione tra questi due team questo è tra storici dell'arte informatici e designers ci ha permesso di condividere punti di vista diversi al fine di trovare soluzioni adeguate sia a livello della struttura della informazione sia a livello della loro presentazione visiva questo indice è stato lanciato nel mese di ottobre scorso dunque siamo ancora nella fase iniziale e proseguiamo nello sviluppo e nel perfezionamento dei contenuti l'index magistri cataloniae è un dizionario digitale che comprende gli artisti catalani attivi in catalonia e nei territori della sua influenza tra l'undicesimo e il quindicesimo secolo benché l'interesse principale dell'indice è quello di censire gli artisti originali di quest'area geografica sono anche compresi artisti stranieri che lavorano in questi territori inoltre abbiamo avuto conto anche di quegli artisti catalani che hanno sviluppato le loro attività di fuori di questi confini sono due gli oggettivi principali di questo indice da un lato vogliamo rivedere e sistematizzare la storiografia catalana che ha contribuito finora allo studio dell'artista medievale d'altro vogliamo rendere un strumento utile per tutti quegli studiosi nazionali ma soprattutto stranieri che sono interessati per l'arte della Catalogna e per la discussione scientifica correlata a TELI insomma intendasi una ferma volontà di contribuire alla democratizzazione del sapere tramite il concetto di una sorta di wikipedia degli artisti catalani come si può apprezzare nella HOM l'index Magistri Catalogna è in sé una delle sei sezioni che divide il web e ha quindi un'entità propria l'accesso può avvenire attraverso la HOM ed anche tramite il menu nella parte superiore delle diverse sezioni prima di descrivere l'indice vorrei sottolineare che i motivi ornamentali che appaiono in questa sezione e in tutte le altre del web provengono dall'album del billard di Honeycourt è questa una scelta ornamentale ma soprattutto simbolica vista la dimensione documentale del billard per la conoscenza dell'artista medievale nella parte superiore della pagina si mostra mediante uno schema molto grafico la prima classificazione in cui vengono divisi i contenuti in primo luogo ci sono gli artisti individuate per il nome di seguito gli artisti anonimi o con nome attribuito e dopo il vocabolario professionale dunque sono due gli oggetti del nostro studio gli artisti ed i termini correlati alla loro attività artistica l'informazione è accessibile però tramite le sottoclassificazioni che sono in basso da un lato gli artisti individuate per il nome sono classificati in due varianti gli artisti autografi vale a dire quello che hanno firmato le loro opere e gli artisti documentati quelli che conosciamo attraverso la documentazione è questo senz'altro il gruppo più ampio in cui troviamo i nomi più noti della storia dell'arte catalana per quanto riguarda gli artisti anonimi questi sono divisi tra maestri e votere nella sezione di vocabolario professionale trovassi termini descrittivi delle professioni artistiche questa è pure una scelta ragionata per dimostrare l'importanza della riflessione metodologica nella creazione di una epistemologia per lo studio dell'artista lo scopo principale è riflettere sullo status delle arte e sulla condizione sociale dell'artista nel medievo il metodo di lavoro che abbiamo concepito per sviluppare i contenuti dell'indice comprende tre fasi di lavoro successive in primo luogo è stato necessario elaborare l'elenco di tutte le voci l'unità base del censimento è da un lato il nome dell'artista e dall'altro il termine di vocabolario professionale per questo le voci sono state censite tramite lo svuotamento di tutte le fonti documentali che possono contenere informazioni sul tema il risultato di questa prima fase di lavoro costituisce proprio l'indice dal quale si parte e telì è stato trasferito provvisoriamente nel documento pdf che si può consultare nella stesa pagina per ora abbiamo raccolto quasi 1100 voci 1032 relativi ad artisti e 49 ai termini professionali comunque siamo di fronte creato un work in progress e dunque il numero di voci verrà sicuramente aumentato in breve nella seconda fase di lavoro ciascuna delle voci sono state trasformate successivamente nella forma di una scheda per fare questo sono stati disegnati due modelli di schede uno per le voci degli artisti ed un altro per le voci del vocabolario professionale i campi compresi in ciascuno dei due modelli sono presentati in un modo schematico nella stesa pagina di seguito cercherò di dar ragioni a ciascuno di questi campi lo modello di scheda di artista include 12 campi colgo la scheda dell'artista autografo Arnau Cadelli per la visualizzazione in primo luogo il campo nome è un campo di testo libero dove si trova il nome con cui l'artista è eventualmente noto agli studi dopo il campo categoria divide gli artisti tramite quattro valori di convalida artista autografo artista documentato maestro o bottega in seguito troviamo il marco cronologico che è la cronologia nella quale si situa l'artista questo è concebito come intervallo tra due date tramite caratteri alfanumerici dopo il marco geografico è sinonimo dei territori dove si documenta l'attività dell'artista tramite un campo di testo a lista di convalida aperta nel campo della tecnica si intende la tecnica o le tecniche nelle quali l'artista ha lavorato ed essi sono descritte in un campo di testo libero dopo il campo di profilo e discussione storiografica è il campo di testo più ampio questo comprende l'identificazione dell'artista incluso il nome con cui è noto nei documenti la sua biografia e la sua attività artistica sono compresi anche i contributi più relevanti alla conoscenza dell'argomento al fine di dimostrare il dibattito storiografico e sostenere la comprensione delle problematiche interne di ogni caso in seguito troviamo le opere nel quale il campo opere nel quale vengono individuate ciascuna delle opere dell'artista e la loro localizzazione originale tramite un campo di testo libero più avanti troviamo il campo comitenti nel quale sono identificati i nomi del comitenti delle opere è questo uno dei campi più relevanti perché i comitenti saranno l'oggetto della seconda fase del nostro progetto di ricerca dal 2014 inoltre il campo fonti epigrafiche include la trascrizione di tutti i testi iscritti nelle opere questo è ovviamente un campo di testo libero lo stesso che il campo di fonti documentarie dove sono inclusi tutti i riferimenti ai documenti d'archivio che registrano informazioni sia sull'artista sia sull'opera per concludere il campo bibliografia include i principali contributi della storiografia allo studio dell'argomento tramite citazioni abbreviate le quali sono sviluppate nella sezione principale del web bibliografia in aggiunta abbiamo incluso il campo immagine in cui sono inserite varie immagini dell'opera o degli elementi correlati ad esempio le firme voglio fare un punto rispetto alle immagini delle firme perché vogliamo infatti che questo sia il corpus più importante della nostra raccolta iconografica cliccando sopra i thumbnails che sono nella parte superiore della pagina abbiamo un'immagine di risoluzione maggiore che include le dirascalie della figura nel caso delle voci di vocabolario professionale devo dire che siamo ancora nel punto di elaborare le prime schede in cui saranno inclusi sette campi possiamo verci tramite questo schema che è nella stesa pagina innanzitutto saranno di nuovo i campi di nome e di categoria tra le altre cinque quattro saranno di testo libero ed uno di immagine il campo definizione offrirà una definizione del termine sia il nome di una professione di un strumento o di un'azione di lavoro nel campo testimonianze saranno raccolte tutti i documenti correlate con il termine ad esempio una iscrizione o un documento con il termine lapicida dopo il campo di attività e considerazione sociale offrirà un'ampia descrizione del termine inoltre è in questo campo dove si tratterà di analizzare il ruolo dell'artista e anche le strutture del lavoro nell'interno di un team o di una botella nel campo iconografia saranno incluse le testimonianze visive che riflettano le professioni l'attività o gli strumenti sia nelle arte plastica sia nei documenti dell'epoca e infine il campo bibliografia contendrà i principali contributi allo studio dell'argomento in questo modo la informazione delle schede è sempre sistemata nello stesso modo lo sviluppo di queste schede è seguito per i membri del progetto ma è anche aperto ad altri ricercatori interessati in qualsiasi delle voci tanto vogliamo fomentare lo scambio di metodologie diverse tra i ricercatori d'ambito europeo ed internazionale in seguito è giunto il momento di trasferire i dati questa è la terza e ultima fase del lavoro come detto fin dall'inizio l'indice è compreso nella web del progetto Magistri Catalonia questa web è stata creata tramite il gestore di contenuti Joomla che include un CMIES un Content Management System di codice aperto l'indice è creato in Zoho 2.6 un costruttore di contenuti un Content Builder che permette modellare la struttura dei contenuti del web creato tramite il Joomla questo software è stato una scelta del team di informatici e designer ma ci permette a noi una gestione semplice ed autonoma dunque i data entry è un processo gestito dalla coordinazione del progetto e con l'aiuto della borsista Veronica Venza non è solo da realizzare il trasferimento dei dati nei diversi campi del database ma di includere i metadati adeguati che permettono l'indicizzazione dei contenuti innanzitutto abbiamo fatto uso di parole chiave e tags in questo modo siamo in grado di offrire un indice digitale nel quale la information retrieval può essere seguita in un modo molto semplice e intuitivo colgo il caso di un esempio concreto quello del maestro del timpano di Cavestani nel caso di sapersi che questo è un maestro con nome attribuito possiamo cliccare direttamente possiamo cliccare direttamente sulla sottoclassificazione nella parte superiore della pagina nella pagina successiva trovasi i nomi di tutti gli artisti in ordine alfabetico cliccando sul nome in cui ci siamo interessati si accede direttamente sulla scheda inoltre possiamo andare nella parte inferiore della pagina principale dove sono in ordine alfabetico e dunque non classificate tutte le schede finora pubblicate cliccando sul nome si accede lo esteso sulla scheda infine il recupero della informazione può farsi tramite query con il motore di ricerca che è in alto a destra qui in questa parte questa scelta consente di effettuare una ricerca per parole chiave sebbene in questo caso la ricerca si stende a tutti i contenuti del web e non solo dell'indice devo aggiungere che stiamo gestendo il link con i musei e le istituzioni in cui sono conservate le opere e viceversa questo è che l'indice sia visibile nelle collezioni di ciascune delle istituzioni abbiamo il convencimento che questo indice digitale potrà essere di utilità nei vostri studi e ricerche chiudo questo intervento ringraziando al comitato scientifico all'occia faedo Sonia Maffei e con particolare affetto la professoressa Maria Monica Donato l'invito a questo convegno molto grazie della vostra attenzione ringrazio moltissimo Laura e Carles avrei davvero tantissime domande come potete immaginare perché si tratta di un progetto che ha moltissimi punti di contatto con quello che domani cercherò di illustrarvi che è una fase per certi aspetti più arretrata volevo soltanto avere così sottoporre qualche curiosità prima di tutto voi non avete precisato nella vostra presentazione di quali tecniche vi occupate cioè vi occupate indissettamente di tutte le tecniche artistiche avete fatto una selezione di tutto quello che trovate diciamo come abbiamo fatto infatti tutte le tecniche saranno registrate perché diciamo che la selezione viene fatta per l'origine sia dell'artista sia dell'opera dunque tutti quegli artiste che sono catalani e lavorano in territorio di Catalogna in qualsiasi delle tecniche saranno incluse e questo anche sarà rinforzato soprattutto nella parte del vocabolario professionale e mi dispiace non poter mostrare nessuna delle schede perché sarebbe molto pratico ma ci arriveremo aspetto in breve ma in questa parte saranno anche studiate tutte queste tecniche e tutti i processi correlati a tessi questo è lo scopo vediamo ci riusciamo ci riusciamo ma spezziamo bene sia così anche perché tanto il ricercatore principale Manuel Castigneria si occupa nell'attualità di si è occupato molto della pintura ma sta lavorando questi ultimi tempi in tecniche in altre tecniche come il marino miscira in italiano il tessuto il fatto e altre tecniche che forse non sono di studio illustrazione libraria anche questo è lo scopo di cui partiamo per ora avete trovato un'incidenza dell'inedito abbastanza ampia cioè il vostro lavoro passa per via essenzialmente bibliografiche o anche attraverso esplorazioni sul campo perché noi abbiamo assistito a una dilatazione del nostro lavoro quando siamo passati appunto dalla bibliografia corrente a un caso forse più italiano cioè la bibliografia antiquaria e soprattutto per certi settori a esplorazioni sistematiche sul territorio quindi voglio sapere se anche la vostra esperienza è confrontabile in questo senso oppure se procedete per adesso come è ovvio all'inizio di un lavoro soprattutto per via in prima abbiamo partito dell'estudio delle fonti documentarie sia pubblicazioni sia catalogo di mostre anche le fonti di documenti pubblicati ma è vero che dopo la ricerca si stende anche al lavoro di abbiamo lavorato anche per l'esempio di Ramon Lambardo con il documento originale si 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 questo lavoriamo con pubblicazione come quella che ho parlato di Berriè ma anche vogliamo lavorare con la documentazione originale forse il caso di Ramon Lambar è il più importante diciamo che nel caso dell'indice partiamo del censimento dei nomi degli artisti e dopo c'è lo sviluppo di tutti i contenuti che sono correlati ad essi e per questo che molti artisti sono documentati qualche artisti sono documentati dalle opere ma gli altri si trovano nel caso della Catalogna nelle fonti documentarie nei documenti e e d'altro la domanda se avete potuto fino adesso verificare qualche tipo di indizio significativo di regolarità nell'occorrenza della firma cioè se vi sono tipologie o contesti in cui è più frequente che compaia il nome dell'artista perché per esempio questo nostro panorama sta diventando per certi aspetti abbastanza evidente senza voler stabilire delle leggi naturalmente cioè se ci sono contesti sia da un punto di vista topografico sia da un punto di vista sociale in cui è più frequente che l'artista si ricordi o venga ricordato perché poi c'è il problema dell'autografia che è una cosa di cui parliamo magari domani infatti qui è dove vogliamo arrivare perché come conosciamo il caso della Italia soprattutto per i primi secoli l'undicesimo il duodicesimo abbiamo avuto la possibilità di scoprire che qui la firma delle opere è una cosa molto più corrente nella stesa cronologia che per esempio quanto si trova in Catalogna che forse cade l'arnoca degli scultori di San Cucati di Girona uno dei primi a firmare come si firma per esempio qui in Italia o qui in Toscana questo ho avuto io l'opportunità di scoprirlo quando sei stata qua dunque vogliamo anche tramite questo lavoro e tramite questo indice questa sorta di database vogliamo che sia un strumento che ci aiuti ad arrivare a certe conclusioni perché in Catalogna è molto raro questi casi di firme e non dipende per me non dipende della geografia catalana di certi punti ma dipende di tutto l'intero di questa parte del Mediterraneo dove non si trovano fino al tredicesimo o al cattordicesimo le firme delle opere con carattere più ci sono altre domande per Laura e Carles allora vi ringrazio molto grazie a lei e passo la parola se vogliono accomodarsi all'intervento di chiusura di questa prima giornata grazie a tutti